Buon pomeriggio a tutte e a tutti, ringrazio di essere qui con noi, tutti voi che siete presenti nell'Aula E dell'Università di Parma e a tutti coloro che sono collegati online su piattaforma Teams. In questa giornata inaugurale del corso in storia delle donne nel pensiero politico, che ricordo è patrocinato dal Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità di Ateneo di cui porto già i saluti della Presidente Francesca Nori che doveva essere presente ma è stata colpita da un virus di stagione e quindi lascia a me fare i suoi saluti, porgere alla professoressa Gerardi i suoi saluti. Ed è con vero piacere avere appunto in collegamento da Bologna un ospite di primo piano all'interno della storia delle dottrine politiche e all'interno del più vasto panorama degli studi storici. Ricordo Raffaella Gerardi è professoressa Alma Mater all'Università di Bologna in storia delle dottrine politiche in diritti umani e istituzioni politiche e ci offrirà una lezione, una riflessione dal titolo Pensare ai diritti dalla parte delle donne o l'EMP de Gouche. Inoltre è un vero piacere che il Comune di Parma porti i suoi saluti con l'assessore ai servizi educativi e le pari opportunità Caterina Bonetti che ringrazio in particolar modo perché so quanto il periodo sia per lei e per la giunta comunale denso di impegni soprattutto per il suo assessorato ai servizi educativi e le pari opportunità eppure ha scelto di essere qui con noi almeno nei minuti iniziali proprio per portare un saluto del Comune a lei professoressa e tra poco le passerò la parola. Permettetemi di portare i saluti del Presidente dei corsi laurea in Scienze Politiche, il Professor Giacomo degli Antoni che aveva un impegno istituzionale e si rammarica non essere potuto essere qui con noi. Un doveroso ringraziamento a coloro ai quali l'evento di oggi si è potuto organizzare. Il mio grazie quindi a Lisa Oppici del luogo Comunicazione di Ateneo, a Enrico Cossu e Melania Tangora del Centro Selma, elaborazione dati e a Andrea Perrone del luogo Vigilanza e Logistica per il supporto tecnico dato. Ricordo che questo seminario vede il patrocinio del Circolo Culturale Il Borgo e dell'Associazione Feste Internazionale della Storia di Parma di cui ringrazio per il supporto offerto il Presidente Riccardo Campanini insieme alla Presidente Emanuela Catarsi. Passo dunque la parola all'Assessora Caterina Bonetti che ci onora della sua presenza. Grazie Assessore. Grazie mille. Io ringrazio voi di questo invito, in particolare appunto il Professore Posto Pagnotta perché è importante per il Comune di Parma esserci, essere in questi momenti di carattere formativo, culturale che uniscono un po' i due elementi, quelli della della formazione, dello studio ma anche dei diritti delle pari opportunità. Io sono fortemente convinta che molto passi da qui, cioè dalla conoscenza, dalla crescita culturale, personale e che l'acquisizione di nuovi diritti, il consolidamento anche di quelli che sono i percorsi in particolare di emancipazione femminile delle donne passino dalla nostra storia, dalle storie del passato, dagli esempi e da quelli che sono appunto squarci che noi possiamo avere di storia più o meno recente che possono esserci da guida. Quindi io auguro ovviamente buon lavoro per la giornata di oggi ma in generale buon lavoro per questo percorso e vi ringrazio davvero per aver fatto questo focus perché ripeto credo che sia centrale molto importante e il Comune di Parma c'è su questo tema, ci siamo e cercheremo di essere il più possibile presenti. Grazie mille davvero. Grazie Assessore, grazie di tutto e della disponibilità e veramente c'è l'augurio con l'assessorato i servizi educativi e alle pari opportunità di intrecciare momenti di sinergia importanti e anche di consapevolezza come lei richiamava e che speriamo oggi proprio ci donerà perché questo è un dono che riceviamo la professoressa Gerardi che adesso mi accingo a presentare. Grazie mille Assessore, grazie assolutamente, buon rientro in giunta e lavoro. Grazie mille, grazie lei, grazie. Adesso passo a presentare la nostra ospite, Raffaella Gerardi, dicevo, è oggi professoressa Alma Mater all'Università di Bologna dove è stata professoressa ordinaria di storia delle dottrine politiche dove ha ricoperto ruoli e cariche importanti come quella di preside della Facoltà di Scienze Politiche e di direttore del Dipartimento di Politica e Istituzioni Storia. È tra i fondatori della rivista Scienza e Politica per una storia delle dottrine e collabora a molte altre riviste di primo piano nel panorama della storia delle dottrine politiche come ad esempio il pensiero politico per citarne due e ricerche di storia politica. Molteplici i riconoscimenti ricevuti nella sua lunga carriera ricordo ad esempio che nell'ottobre del 2012 Raffaella Gerardi viene nominata dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dei Beni Culturali a far parte della giunta centrale per gli studi storici. I suoi principali interessi di ricerca riguardano il pensiero politico moderno e contemporaneo indagato in relazione al tema della trasformazione dello Stato e delle relazioni tra gli Stati. L'impero osburgico tra 6 e 700, il liberalismo italiano ed europeo tra 8 e 900. Altro tema di ricerca è quello della riflessione politica sulla pace e sulla guerra nell'Europa moderna e contemporanea. Alle figure di Luigi Ferdinando Marsili e Marco Minghetti ha dedicato molti anni di ricerca in relazioni sia alle fonti edite che ai manoscritti. Collabora strettamente all'attività dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento organizzando spesso convegni, seminari in Italia ma anche in Germania con studi italiani e tedeschi di primissimo livello. Tra le sue numerose pubblicazioni e volumi da lei curati io ricordo Politica, istituzioni, individui, percorsi contemporanei, Carocci 2018, Marco Minghetti, Liberalismo e l'Europa, nuova edizione morcelliana del 2022, curato da lei il volume La dichiarazione universale dei diritti umani, storia, tradizioni, sviluppi contemporanei, Siviella 2020, La politica e gli stati, problemi e figuri del pensiero occidentale, Carocci 2022, terza edizione. Infatti partiremo anche proprio da questo libro e delle novità che ci offre in questa terza edizione. Quindi è ora con piacere che cedo la parola a Raffaella Gerardi che ci introdurrà anche alla scoperta di Olempe de Gouges, pioniera e paladina dei diritti delle donne, ma all'interno di un discorso più ampio. Grazie mille professoressa di essere qui con noi oggi. Grazie. Grazie a voi, sono veramente molto contenta e anche emozionata di essere presente. Quando il collega professor Pagnotta mi ha chiesto di intervenire nel suo corso, pensavo di intervenire molto underground nel suo corso facendo una semplice lezione, poi invece lui mi ha fatto la sorpresa di dare questo rilievo anche istituzionale che mi fa molto piacere perché è sempre molto difficile far interagire le istituzioni e questo credo che sia veramente un bel segnale, anche sotto il profilo dei diritti. In effetti l'assessore prima diceva l'importanza di un consolidamento dei diritti. Io vorrei dire fin dall'inizio che effettivamente guardando alla storia dei diritti umani passata ma anche presente, anche recentissima, si fa una gran fatica a ottenere i diritti, si fa prestissimo a perderli, come insegnano storie recentissime. Vedi l'Afghanistan, quello che succede attualmente in Afghanistan o quello che è successo anche, dopo ne parlerò un attimo, anche all'interno del nostro occidente o rischia di succedere. E quindi questo tema mi tocca molto da vicino, anche personalmente, non solo come sotto il profilo della ricerca. E quindi devo un momento di riflessione proprio sulla storia di questo volume a cui ha accennato il professor Pagnotta, che è un volume molto fortunato, che si chiama La politica e gli stati, problemi e figure del pensiero occidentale. E perché vi devo la spiegazione del perché in questa terza edizione poi il ruolo, il pensiero politico delle donne abbia assunto una particolare importanza, anzi sia stato uno dei motivi scatenanti che mi ha portato a fare questa terza edizione. E spiego come sono nati questi volumi. Questo volume sulla storia che si chiama La politica e gli stati, problemi delle figure del pensiero occidentale, non è o non vuole essere un testo di storia, semplicemente un testo di storia del pensiero politico da Machiavelli fino ai nostri giorni, ma vuole essere attraverso l'analisi del pensiero politico di alcune grandi figure, e un momento di riflessione sulla politica, in generale sulla politica, su cos'è la politica e quali sono i problemi fondamentali. Tant'è vero che è diviso in due parti, fin dalla prima edizione che è il 2004, problemi dove si parla, non so, problema della pace e della guerra, il problema dello Stato, il problema del totalitarismo e tutto questo, il problema della democrazia. E poi dopo invece la seconda parte sulle singole grandi figure, non tutto ovviamente, perché per testi analoghi, nello stesso lasso di tempo, testi analoghi in questo percorso vedono un centinaio di figure, originariamente il primo testo aveva una ventina, poco più di figure, ma si era scelto proprio di approfondirne in particolare, insomma attraverso l'analisi di questi pensatori si voleva porre l'accento appunto sui problemi della politica contemporanea. E quindi c'è stata una prima edizione 2004, una seconda edizione del 2011 dove c'è stata una piccola aggiunta, per esempio il tema sul tema del totalitarismo o una riflessione sui problemi del liberalismo e della democrazia contemporanea, che fra l'altro sui problemi della democrazia la riflessione era un collega di Parma, professor Nicola Antonetti, che aveva fatto questo, anzi ne approfitto per salutare tutti i docenti dell'Università di Parma, che sono tutti cari amici e con cui collaboriamo anche scientificamente a livello molto stretto. E poi invece questa ultima edizione del 2022, che questa edizione è proprio stravagante, nel senso che devo chiarire perché io abbia accettato di farla, benché nel momento della mia vita, che era al 2021, all'inizio, fine 2020, inizio del 2021, quando l'editore mi ha chiesto se per caso dopo dieci anni dalla seconda edizione non volessi rivedere un po' quella precedente, io ero in una fase della mia vita che, per dire eufemisticamente, non era proprio delle più felici, il 2021 è stato un anno tutto da dimenticare, il professor Pagnotta lo sa e non ho alcun problema a confessarlo, che in certi momenti non sapevo neanche se poi ne avessi vista l'edizione effettiva di questo volume, quindi ha accompagnato una fase particolarmente problematica della mia vita. Allora perché accettare ugualmente di farla? anche se stava andando benissimo la vendita del volume stesso, anzi l'editore che poi mi aveva proposto diceva comunque una scommessa perché io gli ho detto subito che se l'avessi fatta l'avrei molto allargata e in particolare proprio la parte relativa al pensiero politico delle donne e quindi era una scommessa a vedere poi come sarebbe stata presa. Però questa cosa del pensiero politico delle donne non solo ma anche naturalmente altri altri problemi perché per esempio nella prima parte è stato aggiunto un saggio sul tema del populismo ovviamente che dieci anni fa si poneva con molta minore urgenza di quanto questo tema si ponga oggi come elemento di riflessione della politica contemporanea. Ma proprio la spinta fondamentale è stata proprio questo di fare una significativa aggiunta sul tema pensiero politico delle donne. Allora nella prima edizione anche nelle seconde c'era nella prima parte un saggio che si chiamava proprio il pensiero politico delle donne ed era curata e era curata e ancora curata e è fatta da Raffaella Baritino che è un'americanista però anche una studiosa di storia delle donne tant'è vero che è stata presidente dell'associazione italiana degli studi storici sulle donne e lei stessa aveva fatto questo saggio però poi dopo in quel momento storico in quel preciso momento quindi questo è importante per gli studenti per capire anche proprio come il ricercatore le ricercatrici si pongono in modo diverso perché i tempi cambiano non cambiano molto e allora in quell'epoca pur essendo abbastanza vicino a noi ma insomma non si pone cioè c'erano i libri sì di pensiero di storia delle donne del pensiero delle donne ma all'interno di un manuale che invece pone i grandi classici del pensiero politico del pensiero politico tagliandone fuori tantissimi anche fra i maschi proprio perché si voleva dargli un numero esiguo c'era una donna sola che era la Arendt che era trattata specificamente come grande classico della politica invece in questi anni naturalmente gli studi sul pensiero politico delle donne sono di molto maturati sono molto aumentati sono diventati molto importanti e quindi di cui la necessità a mio avviso di far figurare proprio fra i classici del pensiero politico le donne determinate figure di donne che sono veramente rilevanti questo non per intendere che coloro che si occupano specificamente di storia delle donne di pensiero politico delle donne hanno rilevanza però a me sembrava una bella scommessa anche a livello generale far figurare al pari come hanno tutto il diritto di figurare delle figure di classici del pensiero politico che sono donne sono figure di donne oltre all'Arendt quindi ne sono state aggiunte parecchie perché complessivamente una decina di donne dall'età di dal 600 fino ai nostri giorni sono stati aggiunti alla ventina di altri classici del pensiero politico maschi che figuravano in precedenza e quindi è stata proprio questa scommessa che mi ha spinta ad andare avanti e ad approfondire quell'interrogativo che la baritono che ha fatto il saggio sul pensiero politico delle donne aveva portato alla ribalta nel suo saggio fin dalla prima edizione citando la figura di Mary Astell che già all'inizio del settecento si poneva questo interrogativo se tutti gli uomini sono nati liberi perché tutte le donne sono nate schiave e quindi aveva proprio come incipit quasi del suo saggio aveva iniziato da questo interrogativo per poi portarlo avanti a portare alla ribalta il problema del pensiero politico delle donne le riflessioni in tal senso fino ai nostri giorni ma perché io ho ritenuto poi anche pur in una fase così problematica della mia vita di andare avanti con questa scommessa per la quale ovviamente ci sono più di 35 studiosi illustri che collaborano ai vari saggi quindi li ringrazio tutti perché sono stati veramente molto vicini in questa difficile stesura di queste edizioni ma perché c'era anche un altro problema proprio richiamando quello che ha detto l'assessora prima del problema del consolidamento dei diritti e io aggiungo anche della difficoltà di ottenerli e della facilità a perderli proprio in quel lasso di tempo anche nello stesso occidente senza pensare poi a quello che è successo proprio nel 21 per esempio in Afghanistan quello che succede ora in Iran e tutte queste cose ma gli esempi purtroppo in scala mondiale si moltiplicano dove le donne non siano ritenute legittime titolari di diritti ma c'era anche qualcosa in Occidente che non mi piaceva affatto proprio all'inizio del 21 e che mi spingeva a dire bisogna fare bisogna anche incentivare ulteriormente la riflessione in questo senso ed erano due fatti in precisione uno per esempio nel 2021 era il decennale della convenzione di Istanbul cioè della convenzione del Consiglio d'Europa contro la violenza sulle donne bene il primo firmatario della Costituzione di Istanbul era stata la Turchia appunto sapete che il Consiglio d'Europa è un'istituzione molto più ampia della Unione Europea raccoglie 47 stati e quindi gli stati dell'Unione tutti ma ci sono altri paesi europei che ne fanno parte bene la Turchia che è la prima firmataria di questa convenzione contro la violenza sulle donne del Consiglio d'Europa poi ne è uscita ne è uscita nel decennale, nell'anno del decennale ne è uscita nello stesso anno non eravamo in un periodo molto molto bello perché contemporaneamente l'Ungheria che pure l'aveva sottoscritto innanzialmente però si rifiutava, si sta ancora rifiutando credo di sottoscriverla integralmente e poi la Polonia seguiva quindi mi sembrava un periodo effettivamente assai problematico forse, forse anche all'interno dello stesso Occidente poi c'era stato un altro episodio che mi aveva fatto molto riflettere sulla difficoltà che le donne hanno anche quando sono titolari di istituzioni importantissime ad avere un riconoscimento adeguato come in questo senso allora ricordo a tutti proprio all'inizio del 2021 il famoso Sofa Gate cioè il caso di Ursula von der Leyen che insieme al Presidente della Commissione Europea che insieme al suo collega Charles Michel vanno in visita a Istanbul e mentre Erdogan fa preparare uno scranno adeguato per Charles Michel Ursula von der Leyen rimane in piedi non era stata preparata una sede questa pure che è Presidente della Commissione Europea questo era stata una cosa che per giorni aveva tenuto banco nei giornali di tutto il mondo in particolare in Europa e anche in Italia bene allora sotto la spinta vedete che poi appunto cioè comunque quando lo storico anche se fa storia dei sumeri fa sempre storia del presente sulla base dei bisogni del presente questo storico interroga il passato per rispondere a bisogni del presente bene allora questo era stato proprio l'interrogativo cioè proprio il problema i problemi sia come ricercatrice ma anche come cittadine come donna anche proprio che mi aveva spinta ad intraprendere che mi ha spinta ad intraprendere quest'altra scommessa di inserire nel manuale che però non è solo un manuale è anche uno strumento che noi abbiamo coloro che hanno collaborato l'hanno pensato per aiutare a riflettere un cittadino interessato alla politica sui grandi temi della politica e non solo un manuale di storia del pensiero politico bene a inserire queste grandi figure di donna e perché poi dopo io abbia scelto oggi di parlare di Olympe de Gouges in particolare proprio perché anche qui anche qui bisogna faccio un passo all'indietro che per gli studenti che sono giovanissimi vuol dire poco perché non è nella loro esperienza vissuta ma nel mio vissuto invece c'è che nel secolo scorso quando è stato celebrato il bicentenario della rivoluzione francese naturalmente con fior di studi di tutti i tipi a partire dalla Francia ma non solo naturalmente se voi andaste a vedere appunto tutti gli studi che sono stati fatti anche nella stessa Francia dei personaggi più illustri che hanno dato corpo alla rivoluzione francese bene trovereste poche righe su Olympe de Gouges il che la dice tutta cioè secolo scorso 1989 ancora Olympe de Gouges è un'illustre sconosciuta o giù di lì poi per fortuna invece gli studi si sono invece a questa figura è stata rivolta particolare attenzione legittimamente perché è una figura veramente di altissimo livello per cui non si capisce perché se non con una insensibilità proprio per per le donne in generale anche quando scrivono cose illustri di farle figurare proprio fra i classici della riflessione politica e e perché ho scelto lei proprio perché naturalmente è protagonista in prima persona della rivoluzione della rivoluzione dei fatti della rivoluzione e e scrive questa una non una contraddichiarazione ma sappiamo tutti che l'elemento fondativo del modo di pensare ai diritti in occidente è la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino atto fondativo della rivoluzione francese 1789 bene lei nel 1791 rivolgendola alla regina in quanto donna eccetera scrive la dichiarazione dei diritti delle donne e delle cittadine perché perché naturalmente c'era un profondo non detto in questa dichiarazione universale che pure parlava dei diritti in termini universali universalizzanti il non detto era che quei diritti naturalmente venivano pensati per un uomo che è anche maschio innanzitutto che è proprietario e che è anche un bianco e allora l'Olemme de Guille è anche anzi soprattutto è molto più conosciuta per essere stata una letterata un'autrice di pièce teatrali e di romanzi quindi queste sue idee le aveva già espresse attraverso pièce teatrali e romanzi appunto di critica radicale per esempio all'oscurantismo della chiesa alla non libertà delle donne e al fatto che non potessero divorziare al fatto che non potessero riconoscere figli nati fuori dal matrimonio tutte queste cose e anche al tema di quelli che noi oggi definiamo diritti sociali cioè proprio alle condizioni sociali non solo delle donne ma non solo quindi tutte queste sue idee le aveva portate avanti proprio come letterate nelle sue opere teatrali tra l'altro la de Guille appunto ha una biografia estremamente interessante perché è un'autodidatta fondamentalmente si sposa giovanissima anche un figlio poi molto giovane quando il marito muore eccetera va a Parigi e fa parte dei circoli dei filosofi è molto interessata al pensiero dell'illuminismo è molto in sintonia con il pensiero per esempio di un classico dell'illuminismo come Jean-Jacques Rousseau e quindi ma da autodidatta insomma quindi lei scrittrice letterata eccetera però da autodidatta si fa anche una cultura politica insomma conosce il marchese di Condorcet e il marchese di Condorcet è un autore molto interessante attenzione perché è un girondino non è un giacobino allora anche qua dobbiamo fare attenzione al fatto che non è detto che fra virgolette i più rivoluzionari siano anche altrettanto sostenitore dei diritti delle donne questa questa connessione non si dà proprio tant'è vero che lei morirà per mano dei giacobini insomma comunque il marchese di Condorcet aveva scritto un'operetta sui problemi del diritto di cittadinanza delle donne dicendo che è contraddittorio parlare di diritti in generale di diritti umani se non si stendono anche alle donne aveva fatto questo questo breve scritto e lei conosce il marchese di Condorcet ed è probabile che appunto abbia anche condiviso un po' le idee che Condorcet aveva in questo senso e scrive questa dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina però e critica fortemente quello che secondo lei è proprio l'oscurantismo dei nuovi rivoluzionari che come la chiesa ieri aveva imposto certe idee in nome delle quali poi dopo se non si condividevano si veniva messi a Rognes in epoche passate ma insomma si è messi proprio alla berlina alla stessa stregua secondo lei agivano i giacobini oggi quindi fa una critica molto dura al giacobinismo e naturalmente Robespierre non la prende assolutamente bene e la fa condannare a morte e quindi viene condannata a morte alla ghigliottina viene ghigliottinata nel 1793 naturalmente processata in modo assolutamente sommario per le sue idee per le sue idee per avere voluto estendere a un genere che proprio di diritti non è portatore le donne quelli che erano i valori della rivoluzione come donna e anche come madre devo dire anche una piccola cosa che mi ha fatto sempre molta impressione perché la de Gouges aveva un figlio il quale figlio voleva fare carriera militare e naturalmente ha dovuto proprio rinnegare a sua madre per poter fare carriera e quindi la de Gouges ha vissuto e politicamente e anche personalmente questo dramma di essere addirittura rinnegata dal figlio per le proprie idee e quindi io proprio inviterei cioè inviterei soltanto alcuni a fare alcune riflessioni su alcuni articoli poi magari appunto mi mi diffondo più 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 dettagliatamente in secondo in secondo quando a seguito di vostre eventuali domande su alcuni articoli in particolare della dichiarazione stessa però dopo avervi letto perché anche questo fanno molto pensare un brano abbastanza lungo del preambolo della dichiarazione e poi dopo a seguire un brano invece della postfazione per dire come lei si rivolge innanzitutto agli individui di sesso maschile e poi nella postfazione invece come ritenga che la liberazione della donna deve passare anche attraverso la lotta delle donne stesse non solo da una concessione degli individui maschi allora nella prefazione la De Gouge dice anzi la introduce dicendo vegetali su un sesso le chiama le donne e dice svegliati o donna la campana martello della ragione si fa sentire in tutto l'universo riconosci i tuoi diritti il potente impero della natura non è più circondato da pregiudizi fanatismo superstizione e menzogne la fiaccola delle verità ha dissipato tutte le nuvole della stupidità e dell'usurpazione l'uomo schiavo ha moltiplicato le sue forze ha avuto bisogno di ricorrere alle tue per spezzare le sue catene questo è molto importante perché rimprovera naturalmente la De Gouge ai rivoluzionari il fatto di aver strumentalizzato le donne nella prima fase della rivoluzione le donne avevano partecipato attivamente alla prima fase della rivoluzione per poi negare invece in termini di diritti negare loro i diritti divenuto libero egli è diventato ingiusto verso la sua compagna o donne donne quando smetterete di essere cieche quali vantaggi avete ricevuto dalla rivoluzione un disprezzo più marcato un biasimo più evidente nei secoli di corruzione avete regnato soltanto sulla debolezza degli uomini il vostro dominio è distrutto che cosa vi resta dunque la convinzione dell'ingiustizia dell'uomo la rivendicazione del vostro patrimonio fondati su saggi decreti della natura che cosa avreste da temere per un'impresa così bella ecco quindi cosa avreste da temere dal fatto di ribellarvi a questa pressione che i nuovi rivoluzionari hanno fatto continuano a perpetrare come già i secoli bui i secoli del passato i secoli dell'oscurantismo avevano fatto e quindi la de gouge riscrive declina rideclina la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino il documento quindi fondativo del nostro stare insieme della nostra civiltà occidentale insomma perché io quando insegno diritti umani ai miei studenti naturalmente non posso non partire dalla dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti delle due grandi rivoluzioni quella americana e poi dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dell'89 che però erano scritte si rivolgevano a un uomo in generale agli uomini senza dire esplicitamente però presupponendo che poi gli uomini erano i cittadini e quindi per godere della proprietà del requisito della proprietà era il requisito fondamentale per i cittadini e le donne non potevano essere proprietari quindi non erano cittadine quindi non avevano diritti quindi si parlava in termini strati di uomo ma in realtà si intendeva l'individuo maschio e proprietario e la de Gouge le riscrive punto per punto ma vedrete se qualcuno di voi andrà a vedere il mio testo e vedrà che alla fine nella voce del Gouge che ho fatto io personalmente sono riportate sia la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dei cittadini nell'89 sia quella della de Gouge nel 91 sono riportate tutte e due in modo di far vedere proprio punto per punto articolo per articolo sono 17 gli articoli e punto per punto quali sono le modifiche che la de Gouge ha fatto e sarebbe farle un torto dire che la de Gouge si è limitata semplicemente a metterla dove c'era scritto l'uomo a metterci la donna e le donne e anche le donne perché certi articoli invece vanno molto più in là vanno molto più in là e ampliano gli stessi articoli per esempio per esempio l'articolo che riguarda l'articolo 3 che riguarda il concetto di nazione dove si specifica bene dove si specifica bene che la nazione non è semplicemente un termine astratto ma è la riunione della donna e degli uomini ecco così come ciò che ne consegue poi nell'articolo 16 articolo famosissimo perché anche dal punto di vista proprio del costituzionalismo perché dà le coordinate di che cosa si intenda per costituzione quando è che un popolo godi una costituzione e allora l'articolo 16 viene rideclinato in questo modo ogni società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata nella separazione dei poteri determinata non ha costituzione fin qui è l'articolo 17 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino ma invece poi lei aggiunge la costituzione è nulla se la maggioranza degli individui che compongono la nazione non ha cooperato la sua redazione è nulla quindi chiaramente vuol dire che la nazione è fatta ugualmente alla stessa strega degli uomini e delle donne quindi una costituzione è nulla se alla sua stesura non hanno partecipato anche le donne quindi questo davvero è un articolo molto importante così non perché gli altri rideclinano in parte ma qui c'è una vera e propria aggiunta così come una specificazione molto importante c'è per esempio l'articolo 13 dove si rivendicano per le donne alle donne la possibilità di fare qualsiasi tipo di lavoro sapete che la solita cosa è che le donne sono deboli non sono adatte a fare determinati lavori e anche studi di conseguenza eccetera mentre invece nell'articolo 13 della dichiarazione della Deguse suona per il mantenimento della forza pubblica per la spesa dell'amministrazione i contributi della donna e dell'uomo sono uguali essi partecipano a tutte le corvée a tutti i lavori faticosi dove dunque avere ugualmente parte la distribuzione dei posti degli impieghi delle cariche delle dignità dell'industria quindi le donne possono benissimo avere accollarsi tutti i lavori anche quelli faticosi non ci può essere la scusa che la donna è debole fisicamente quindi deve essere titolare di diritti limitati e poi naturalmente quello che purtroppo poi sperimenterà sulla sua pelle l'articolo decimo che dice nessuno deve essere perseguitato per le sue opinioni anche fondamentali la donna ha il diritto di salire sul patibolo deve avere ugualmente il diritto di salire sulla tribuna perché le sue manifestazioni non turbino l'ordine pubblico stabilito dalla legge questo è molto importante è molto importante così come c'è solo una parolina di aggiunta che però è molto rilevante l'aver legato il concetto di libertà al concetto di giustizia per esempio proprio nell'articolo 4 che invece suonava solo come problema della libertà nella dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino dice la deguse la libertà e la giustizia consistono nel restituire agli altri tutto ciò che loro appartiene così l'esercizio dei diritti naturali della donna ha come limite soltanto la perpetua tirannia che l'uomo le oppone questi limiti devono essere riformati dalla legge della natura e dalla ragione così come in altri articoli ve lo vedrete voi andandole a vedere più dettagliamente l'un l'altro c'è anche in nuce un po' il problema proprio dell'aiuto che deve essere dato alla donna perché sicuramente affinché possa fruire di determinati diritti perché sicuramente non sono su un piano paritetico e quindi devono essere anche garantiti tutta una serie di interventi sul sociale che facciano sì che le donne possano poi effettivamente arrivare a fruire di questi diritti quindi come vedete una lettura estremamente innovativa estremamente innovativa proprio del tema di chi è titolare dei diritti quali sono i recinti all'interno dei quali si iscrivono i diritti umani naturalmente e di aver tenuto adesso questa dichiarazione che riscrive al femminile allargando le donne però in altre sue opere naturalmente come anche del resto già c'erano cenni in questo senso del marchese di Condorcet anche il problema effettivamente che gli individui proprietari bianchi ecco anche la limitazione bianco era una limitazione ovviamente perché parlare di diritti umani in generale vuol dire anche estenderli ad altri a popolazioni che non siano di pelle bianca e quindi questo insieme di problemi che la de Gouges ha così potentemente tenuto presente nella sua vita che però è una vita come vedete anche di testimonianza attiva ce l'ha rimessa la sua vita proprio per essere fedele alle sue idee ci ha rimessa anche di persona perché vedersi rinnegato dal proprio figlio mentre si sta andando al patibolo non oso pensare che cosa voglia dire pure una donna di questo tipo nel bicentenario della rivoluzione quindi nella seconda metà del secolo scorso ancora lì ancora lì poi da un'eredità così attenta come quella francese che sicuramente la Francia è sicuramente il paese dei diritti appunto pure anche lì la figura della de Gouges abbia fatto tanta fatica ad affermarsi e quindi mi sembrava molto significativo proprio introdurre la riflessione su questa pensatrice naturalmente ovviamente ce ne sono tante altre nel volume che non esauriscono perché come ho detto così come i classici del pensiero politico anche le figure di donne classiche del pensiero politico non sono certe esaustive della storia del pensiero politico delle donne ma vogliono proprio incentivare a questa attenzione al pensiero politico delle donne che sta assolutamente alla pari degli uomini e purtroppo io credo che forse appunto sia molto triste pensare che ancora da qualche parte da qualche parte purtroppo l'interrogativo che una scrittrice della fine dell'inizio anzi del 400 che era Christine de Pisan che scrive ahimè mio Dio perché non mi hai fatta nascere maschio affinché le mie virtù fossero tutte al tuo servizio così da non sbagliarmi nulla essere perfetti in tutto come gli uomini dicono di essere ecco allora allora questo interrogativo io non lo so in tante parti del mondo dovremmo suonerebbe estremamente attuali rischia rischia anche cioè non è che possiamo essere siamo felici di essere in una condizione molto diversa rispetto ad altre pari del mondo però gli esempi che vi ho fatto sopra anche di rischi appunto di non riconoscimento anche all'interno di paesi civilissimi quali possono essere l'Ungheria oppure la Polonia oppure la sono tutti campanelli d'allarme per tenere per tenere ben saldi questi questi diritti e quindi credo che ancora oggi come donne e uomini del ventunesimo secolo così poi aspetti professoressa che allora dov'è 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 consenti grazie sto seguendo una videoconferenza in questo momento ma chi è? si la chiamo io disabilita microfono aspetti professore allora pure dovrebbe ridare il microfono professore se provi a parlare allora da qua e quindi io dovrei da qua no provi a riabilitare lei il microfono al microfono disabilitato io non ho ecco adesso sì ecco no adesso mi sentite? sì la sentiamo appunto no erano solo proprio le parole conclusive del dire che come donne e uomini che viviamo in questo inizio del terzo decennio del nuovo millennio non possiamo sentirci che profondamente sotto scacco quando ancora oggi in tante parti del mondo e anche delle volte all'interno di insospettabili cornici in occidente dobbiamo avvertire ancora attuale il grido lanciato da Christine Pesant proprio quello che vi ho appena detto all'inizio del 1400 all'inizio del quindicesimo secolo e quindi io auspico appunto che possiamo aver dato io e i collaboratori del volume un piccolo contributo a una riflessione profonda sull'importanza delle riflessioni delle donne nella nella riflessione sulla politica attuale nella politica passata e presente e sui suoi problemi vi ringrazio tutti molto di essere stati presenti ringrazio e ringrazio anche i colleghi Claudia Giurintano e Francesco da Palermo e Francesco Raschi da Bologna quindi grazie di essere presenti e grazie Francesco ha collaborato con ben tre o quattro saggi al mio volume e con Claudia abbiamo rapporti molto molto stretti e di ricerca e personali perché la dimensione personale è sempre importantissima non a caso l'ho denunciata subito all'inizio di questo volume perché effettivamente senza una grande scommessa di rapporti proprio personali delle persone che hanno collaborato a questo volume non ce l'avrei mai fatta in quella fase difficile della mia vita portarla al porto quindi sono molto felice e affezionata a questo volume ma devo girare i ringraziamenti a tutti quelli che mi hanno mi hanno incentivata e hanno collaborato a farlo ma Claudia mi ha incentivata personalmente ad andare avanti con quell'anno sorribili 2021 dietro questo che non è un manuale lei ha ragione professoressa va oltre va ben oltre il manuale è un vero proprio libro composito che guarda sul futuro perché i contributi hanno tutta una prospettiva che non si basa solo sul passato ma è ricca di riflessioni proprio che guardano al domani perché per esempio il contributo sull'Mdebukus che lei ha curato pone degli accenti di estrema straordinaria attualità ma come tanti altri contributi al suo interno quindi c'è stata un'interpretazione in questo senso uno sguardo al passato ma anche una prospettiva che si guarda al domani sulla figura di Olemdebukus chiedo sul suo intervento se c'è qualcuno che vuole intervenire anche dei colleghi una ci vuole donare una riflessione una considerazione noi qui abbiamo un'aula piena qua a Parma di giovani studenti ma anche di insegnanti di scuole di liceo quindi insomma chi vuole intervenire arricchisce il momento di confronto anche per donarci una sua riflessione dicevamo qua sì prego io è ben luce e chiaramente si tratta di un volume di poco più di 500 pagine vengono trattati tantissimi autori e problemi quindi è chiaro che le pagine a disposizione di ogni autore sono non tante e uno di noi ha scelto di focalizzare il tema anche per gli altri classici della politica anche per le grandi classiche pensatrici politiche su una massimo due opere perché per non fare troppa confusione non metta troppa carne a fuoco quindi io personalmente ho scelto questa della dichiarazione universale della dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina ho scelto questo documento come altri docenti hanno scelto altri temi quindi è proprio cioè io personalmente non sono un'esperta specifica della Degush mi è interessato molto andare a fare i conti con questa pensatrice però sono ben al di là per esempio di conoscere la sua opera letteraria le sue opere le sue i suoi romanzi le sue pièce teatrali sono importantissime perché lì sarebbe anche importante una lettura politica per dire la critica al maschilismo a tante cose infatti sono interessantissime come per esempio lei ha citato Christine de Pisan su cui sto lavorando su alcuni scritti di autori inglesi che hanno stanno indagando appunto il pensiero politico della Pisan cioè ci sono delle autrici appunto come Christine de Pisan che hanno una profondità cioè in Italia arrivano su un'onda lunghissima cioè rispetto ai paesi anglosassoni cioè io penso per esempio agli studi di una Karen Green australiana emerita a Sydney in storia della filosofia politica del pensiero politico che già nel 2004 si scrive un libro per la Cambridge University Press che poi viene ripreso nel 2014 credo in un secondo volume sulla storia del pensiero politico delle donne quindi insomma diciamo che c'è ancora tanto tanto da fare tanto tanto da riscoprire quindi merito di questo volume aver aperto uno spazio un focus attenzione su autrici su cui i nostri studenti testimonianza anche di oggi quando ci siamo confrontati prima dell'intervento avevamo un'ora e mezza di lezione molte di loro non sono assolutamente a conoscenza di queste autrici perché nel percorso scolastico non vengono fatte allora c'è un'amputazione a livello di genere di un retroterra culturale che io non riesco a capire ma lo capiamo bene lo capiamo bene viene a mancare cioè c'è un vulnus che deve essere colmato quindi ben venga che questo vulnus si inizi a essere colmato attraverso questo volume questo libro perché mette in evidenza delle autrici di assoluto rispetto soprattutto rispetto a temi come lei dice professoressa di cui abbiamo condiviso anche la riflessione che sono sull'oggi sono sull'oggi se basta ci guardiamo un po' intorno quello che sta succedendo colleghi Francesco Raschi la professoressa Giurintano Francesco Raschi forse può aggiungere qualcosa visto che ha collaborato al mio volume sicuramente dell'itinerario anche perché scusa grazie grazie Fausto grazie Raffaella molto volentieri anche perché sia pure vabbè vedete le sfumature perché non riesco a farvi vedere dove sono ma quando devo parlare all'università di Parma mi sento di tornare a casa per certi versi è stato un grande piacere anzi per certi versi anch'io avevo insistito con Raffaella perché facesse una nuova edizione di questo volume che adottavamo da tempo in parte per una motivazione egoistica che non va detta magari davanti agli studenti ma che dico ugualmente tra amici e cioè che avevo voglia di partecipare di essere uno degli autori di questo volume quindi ho chiesto espressamente di poter fare la voce a Ron e poi abbiamo 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 progettato anche questa integrazione sul pensiero politico di autrici che sono solitamente misconosciute o comunque non considerate nei manuali di storia del pensiero politico teniamo conto che questo curato da Raffaella è uno probabilmente dei manuali più utilizzati oggi in Italia no? è l'ambito della storia del pensiero politico quindi l'aspetto culturale di questa di questa opera è notevolissimo perché con ogni probabilità in molte facoltà di scienze politiche in Italia penso a Bologna penso a Forlì penso a Parma penso a Torino penso a Palermo cioè in tante realtà si studiano adesso delle autrici che altrimenti non sarebbero state studiate dagli studenti di scienze politiche per quello che riguarda il manuale credo sia un manuale diviso come noto in due parti una più sui problemi una più sugli autori che vede tra i collaboratori anche figure di primo piano della scienza politica e della storia del pensiero politico italiano penso ai due nuovi ingressi i due ultimi capitoli che sono quelli dei professori Ornaghi e Palano che sono certamente due fiori all'occhiello del manuale ma poi in generale c'è il capostipite della storia delle dottrine di Parma che aveva scritto il capitolo sulla democrazia il professor Antonetti c'è Giovanni Giorgini che scrive un bellissimo saggio sul liberalismo contemporaneo quindi da questo punto di vista credo che gli studenti riusciranno a trovare davvero sia i problemi che gli autori importanti per la storia del pensiero politico ma in generale il vero il vero cambiamento rispetto alle edizioni precedenti è inutile nasconderlo è questo spazio dedicato ad autrici che solitamente non vengono studiate quindi in un contesto come il tuo Fausto visto che so benissimo di che cosa stiamo parlando credo che sia il libro adatto diciamo per per far conoscere anche il pensiero politico delle autrici che ribadisco a parte Anne Arendt che era l'unica autrice sostanzialmente che veniva studiata e che viene studiata e che viene trattata anche negli altri manuali ecco qui abbiamo davvero un campionario esaustivo esaustivo probabilmente non esaustivo insomma ma diciamo come primo passo credo che sia stato un passo assolutamente da compiere ed efficace compiuto bene ecco per il resto non voglio tediarvi più di tanto insomma se ci sono delle domande degli interventi da parte degli studenti o di altri colleghi sarò anche ben lieto eventualmente di rispondere assieme a Raffaella però credo che di potermi limitare a questo ecco per adesso grazie sì che poi svelo un particolare insomma Francesco è l'artefice del fatto che il manuale sia stato adottato all'interno del corso in storia delle donne del pensiero politico che tengo perché già all'inizio quando ci fu questo cambiamento quindi andiamo un po' indietro mi disse ma sai che sta la professoressa Gerardi sta venendo incontro a una cosa che forse intercetta il fatto che tu stai spingendo per cercare di porre un insegnamento su storia delle donne del pensiero politico e poi dopo si è realizzato e quindi con una tempistica direi perfetta quindi questa introduzione di camei su figure su figure femminili c'è qualcuno in aula che ci vuol dire qualcosa anche semplicemente una considerazione anche sull'oggi perché avete visto la professoressa Gerardi ha parlato sull'oggi anche una preoccupazione che voi potete avere che potete condividere con noi un semplice pensiero avete studiato queste cose? No no dicono tutti di no quindi insomma secondo voi è importante che si creino questi spazi per recuperare un qualcosa che è veramente stato occultato perché di questo no parlo con la professoressa Gerardi con Francesco cioè di questo noi parliamo dal punto di vista degli storici della storia cioè ci sono dei pezzi dei frammenti di storia al femminile che mancano completamente nel panorama della formazione eh sì io è anche stata la sfida del lanciarlo proprio perché come ho detto prima l'ho ribadito cioè mi sembra non che non ritenga importanti gli studi storie delle donne e anche degli studi specifici proprio che facciano riferimento solo ed esclusivamente al pensiero delle donne però secondo me era un po' in qualche modo ghettizzarle cioè perché non metterle alla pari che hanno tutti i numeri per essere assolutamente alla pari dei classici del pensiero politico e chi abbia la pazienza la voglia il tempo di andare a vedere i classici del pensiero politico così quelli che vengono ripresentati perché poi non sono tutti pensieri politici moderni contemporanei per carità è stata fatta una scelta proprio per incentivare ulteriori approfondimenti però vedranno che le figure di donne che vengono rappresentate i problemi che si presentano certo c'è anche il problema della donna come io vi ho letto quei passi della De Gouge molto critici sul fatto proprio perché alle donne non vengono riconosciuti i diritti però al di là di quello che è pure importantissimo si misurano sui problemi della politica a loro contemporanea alla pari per esempio su cos'è Costituzione la De Gouge lo dice da che cosa cos'è la nazione da chi è costituita la nazione ecco allora così le altre pensatrici politiche insomma e quindi noi le abbiamo messi assolutamente alla pari in ordine cronologico naturalmente in ordine cronologico e basta insomma non le donne e gli uomini i maschi eccetera questo mi è sembrato un'operazione importante comunque è quella in cui credo poi senza nessuna pretesa ovviamente di essere esaustivi perché abbiamo dovuto perché l'editore ovviamente questo libro era forse quasi la metà Francesco non so poco più della metà l'edizione precedente a 200 pagine in più appunto quindi era preoccupato era preoccupato perché dopo come si vende però anche lui a questo punto sta tranquillo perché come ho detto a professor Pagnotta anche Francesco Raschi naturalmente fra i primi ho saputo che è stata fatta una ristampa nel gennaio del 2000 in questo gennaio il volume è nelle librerie da settembre quindi vuol dire che la prima edizione l'hanno già esaurita e non l'hanno esaurita a Bologna for lì perché non hanno ancora fatto il corso lo faranno nel secondo semestre quindi vuol dire che ha avuto successo ma questo al di là appunto della cosa così gratificante che ha me gratificato perché appunto ripeto essendo stata in una fase non proprio felice della mia vita per non dire altro e allora lo sento proprio come un figlio come qualcosa di cui voglio un bene grandissimo perché poi c'è anche di che voler bene perché voglio bene tutte le persone che vi hanno collaborato perché senza il loro aiuto il loro stimolo non sarei poi così tranquillo anzi non sarei riuscita ad andare in porto quindi è un libro a cui sono proprio empaticamente molto legata d'altra parte io credo che sia anche un messaggio da dare anche agli studenti la ricerca è qualcosa che ci deve coinvolgere in profondità in temi in cui crediamo e anche con una collaborazione una collaborazione vera con le persone con cui effettivamente è possibile scommettere scientificamente ma anche umanamente perché poi senza un feeling un idem sentire anche umano dopo difficilmente si riuscirebbero a mettere insieme una scommessa comune invece anche Francesco me lo può sottolineare anche i tempi di scadenza che avevamo dato molto rigidi eccetera tutti hanno poi alla fine magari uno ha fatto penare una decina di giorni rispetto al tema di scadenza però tutti quindi hanno molto volentieri collaborata e questo spirito mi rimane proprio dentro molto mi ha aiutato anche personalmente molto a venire fuori da una fase molto difficile della mia vita quindi a questo libro sono molto molto affezionata e io spero davvero che questa scommessa della storia delle donne possa essere un qualcosa che aiuta a una riflessione a un'ulteriore riflessione anche perché lei come ha detto è molto importante il messaggio cioè trattare il pensiero politico delle donne non può passare attraverso la riserva protetta non può passare attraverso una sorta appunto di ghettizzazione o di appunto qualcosa che viene fatto a later e no assolutamente va messo alla pari proprio alla pari del pensiero politico di tanti uomini di cui noi abbiamo assolutamente consapevolezza e conoscenza manca questa parte quindi il manuale nella terza edizione il manuale della politica che gli stati pone veramente una sorta di rimedio primo rimedio un buon mattone per costruire poi un futuro di ricerche sul tema e anche a livello di manualistica anche a livello di manualistica perché effettivamente come dicevamo con Francesco Raschi cioè nel panorama insomma c'è povertà da questo punto di vista quindi grazie mille professoressa a lei non solo per oggi ma per l'impegno anche di aver coordinato in tempi non semplici questo manuale che ha avuto un buon esito e ottimo no io come diceva Francesco ma lui non era presente nella fase iniziale cioè Parma c'è proprio un feeling diretto no perché oltre a Nicola Antonetti poi c'è Mario Tesini poi dopo ci sono tutti sono tutte persone amiche queste che insegnano l'università di Parma con cui che la saluta adesso che la saluta adesso non è riuscito a collegarsi per un problema di una visita però la sta salutando ecco appunto volevo dire mi ha mandato un messaggio io riconosco tutte queste persone che sono persone oltre che di grande valore scientifico sono anche degli amici sono anche degli amici e io vorrei effettivamente che che questa dimensione dell'amicizia è una cosa non solo privata ma una dimensione fortemente pubblica nella nostra civiltà noi l'abbiamo relegata a una dimensione privata solo da qualche secolo a questa parte insomma dovremmo riscoprire anche questo aspetto anche a livello pubblico quindi io sono sono molto contenta proprio sono molto contenta che proprio la prima presentazione del volume sia proprio all'università di Parma proprio anche per questi rapporti di profonda stima personale scientifica per le persone che hanno segnato e che segnano l'università di Parma a dei due livelli sia a livello scientifico di rapporti scientifici che a livello di rapporti profondamente umana sia a Nicola Antonetti che a Mario Tesini sono profondamente grata naturalmente Francesco Raschi adesso è bolognese da adozione quindi sono a San Diris Francesco volevi intervenire un attimo volevo solo dirti che Mario mi aveva scritto di chiedere Venia di non poter essere stato presente perché questa visita medica che sapevo aveva si è prolungata più del dovuto e quindi non è riuscita a collegarsi e si scusava ma visto che noi registriamo perché il video sarà comunque registrato l'intervento poi sarà dal nostro centro Selma poi sarà elaborato nelle parti più significative che sono bravissime al nostro centro Selma e intanto veramente se non ci sono interventi noi salutiamo la professoressa Raffaella Gerardi saluto i colleghi che si sono collegati grazie mille di questo regalo che ci ha fatto oggi no l'avete fatto voi a me grazie 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 infinite è un ritorno è un ritorno alla grande e quindi grazie infinite alla prossima arrivederci e grazie agli amici Francesco Claudia ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti